Ho ricevuto il vice sindaco Zagarella e gli altri tre assessori del PD, De Bonis, Chiarini e Risso, che mi hanno consegnato le dimissioni così come avevano annunciato alcuni giorni fa. Onestamente mi dispiace dal punto di vista umano perché comunque sono stati quattro anni e mezzo di collaborazione proficua, però purtroppo a volte le dinamiche della politica, che è un mondo che ripeto io non conosco, e più passa il tempo più mi stupisce perché ogni tanto accadono cose che veramente vanno al di fuori dell'umana comprensione, ha fatto sì che abbiano l'assegnatore di dimissione. Ripeto, mi dispiace, io li ringrazio per il lavoro svolto, non so onestamente bene che cosa succederà all'amministrazione da qua alla sua scadenza naturale, io spero che per il bene della città i consiglieri comunali abbiano a cuore la città e mi consentono di avere la fine mandato per fare le cose che la città richiede senza andare a inventare piani regolatori piuttosto che cose di straordinaria amministrazione, ma semplicemente le cose che la città e i cittadini chiedono che vengano fatte da qua alla fine, anche perché, dico solo una cosa, il Comune d'Imperia da 2013, anche da prima, da 2012, si trova in una situazione finanziaria abbastanza critica, siamo spesso chiamati dalla Corte dei Conti a riferire sullo stato di avanzamento del risanamento che questa amministrazione ha portato avanti e sta portando avanti, se venisse un commissario io credo che la prima cosa che farebbe, ma perché lo farei anche io, ora che conosco le dinamiche di funzionamento degli enti, fossi mai nella vita un commissario prefettizio, venisse qua un commissario la prima cosa che farebbe sarebbe quella di dichiarare il dissesto economico dell'ente, con la conseguenza che per i prossimi dieci anni, minimo, ci sarebbe un piano di risanamento economico che impedirebbe di fare investimenti sulla città. Invece, essendoci un'amministrazione, questo si può evitare, perché si possono mettere in pratica azioni, magari si sacrifica una cosa, si taglia un qualcos'altro, quindi si fanno dei ragionamenti, non si prende la carta e la calcolatrice e la penna e si fa un taglio secco per risolvere un problema. Questo è uno dei motivi per cui faccio questo appello a tutti i consiglieri comunali. La mozione di sfiducia è una mozione che viene, per essere presentata, ha bisogno di 13 firmatari, per essere approvata ha bisogno di 17 voti favorevoli, se ci sarà mozione di sfiducia io accetterò il risultato. Chiaro che non è che posso fare il rivoluzionario o andare contro alle regole della democrazia. Viviamo in una democrazia regolata, da regole. Se succedesse questo, però rispetto all'appello che ho fatto prima, io penso che i consiglieri comunali una mano sulla coscienza se la dovrebbero mettere. Poi, ripeto, facciano cosa vogliono. E noto che io ho un lavoro, non è che ho bisogno di stare qua, quindi se posso stare a fare lavoro per i cittadini di Imperia, ben volentieri, il resto, se devo andare per la volontà di 17 persone che si danno in consiglio comunale, vado, non c'è problema. Per quanto riguarda la giunta, adesso che cosa succederà? Dal punto di vista, diciamo così, normativo, barra numerico, è sicuramente necessario un azzeramento, che non è una mancanza di fiducia per gli assessori che sono rimasti, ma è una questione, diciamo, tecnica che serve per diminuire il numero dei componenti della giunta, perché io assolutamente intendo diminuire e non rimpiazzare, diciamo, i quattro dimissionari. Dopodiché, una volta fatto questo, ci sarà appunto un azzeramento, una rinomina degli attuali assessori, con una ridistribuzione delle deleghe. Adesso, onestamente, non sono convinto di... Forse una, potrebbe essere che ci sia la necessità di un assessore in più, però altri quattro in questo momento, visto che siamo in fase finale di amministrazione, non credo che siano più necessari, perché non abbiamo progetti nuovi da mettere in più, abbiamo da finire delle cose, sostanzialmente. Si vedrà, onestamente, non so adesso, in questo momento non so dire. Grazie a tutti.